questo è il parcheggio proprio è la zona solo di quelli della fraglia vela tu sei di fraglia vela riva? si come ti chiami? Omar senti ci dici una cosa l'amicizia con i tuoi amici compagni e concorrenti della vela sei più amico o più rivali in acqua? beh tipo a terra bisogna essere amici però in acqua si è rivali l'idea è chiarissima e quanti amici ti sei fatto in un anno di vela? 5-6 e oggi ne fai altri mi sa? si ciao allora la domanda che stiamo facendo tu sei regatante no? ti vedo dalla faccia proprio che sei velista quanti amici vi siete fatti in un anno di vela? tanti tanti eh? cioè fare amicizia è una delle cose importanti della vela giusto? ehm sì io mi sono fatto pochi amici perché comunque ne prendo pochi ma che mi stanno simpatici cioè sei selettivo fai una selezione molto accurata eh? anche tu? sì anche quali sono i criteri di selezione? proviamo a sentire che alcuni amici magari all'inizio ti sembrano bravi alla fine magari ti stanno cioè magari non ti piacciono invece gli amici veri sono quelli che ti rimangono sempre e che ti rimangono per sempre però io so che c'è un'alta percentuale tra i velisti eh di amici veri eh e tu? ehm secondo me quelli che sono gentili con te ti aiutano e ti danno supporto invece quelli che non sono tanto tuoi amici si fanno vanno un po' via con gli altri senti ma tra gli amici diciamo di scuola fuori dalla vela gli amici della vela gli amici del cuore quali sono? della vela? in generale tra quelli fuori e dentro? ho due migliori amiche che si chiamano Isabel e Isabella che bello quindi sei un po' la tua selezione è sul nome praticamente e sono veliste? no però mi sa che verranno a fare vela se tu insisti vedrai che le convinci ciao 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 Chiari Chiari si chiama questa barca? perché tu come ti chiami? vieni un po' a guardare un po' di là come ti chiami? Chiara Chiara e la barca si chiama Chiari? si senti allora stiamo chiedendo quanti amici ti sei fatta in un anno di vela cioè l'hai amici nella vela? si eh? si eh non lo so quanti cioè l'amicizia è una delle cose importanti della vela no? cioè si fanno tanti amici si non so quanti ne ho fatti in un anno cioè non si possono contare da quanti sono ha più amiche, più amici? amiche amiche eh? si anche alcuni amici pure senti da dove vieni tu? da Palermo e gli amici che ti sei fatto sono un po' da tutta Italia no? si 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 da anche fuori Sicilia molti si e vi sentite anche fuori dalle regate insomma si si anche se siamo in posti diversi bello e questo ci piace ciao ciao vieni vieni ragazze buongiorno buongiorno come andiamo? tutto bene? come vi chiamate? Isabella guardate la tu? Marta Chiara Isabella Marta e Chiara allora noi stiamo parlando dell'amicizia cioè attraverso la vela si fanno tanti amici tante amiche la vostra il vostro rapporto con gli amici che vi siete fatti e le amiche che vi siete fatte in un anno di vela ehm cioè sicuramente prima non le conoscevo perché ho iniziato a fare vela un po' più tardi e poi appena ci siamo conosciute e ho subito legato con loro perché comunque siamo bambine sociali che non siamo introverse e quindi abbiamo fatto subito amicizia eh lo vedi 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 perché è la vela che porta pure è questo i tuoi amici a vela il tuo rapporto con gli amici che ti sei fatta con la vela? eh non lo so sono simpatici io alcuni li conoscevo da prima quindi cioè lei tipo la conoscevo da prima quindi eravamo già amiche il tuo parere? cioè cos'è che cementa l'amicizia andando in barca a vela insieme? cioè comunque se hai un amico cioè ti potrebbe anche aiutare a fare qualcosa non lo so darti uno scambio cioè non lo so chiedi un favore oppure cioè un favore in questo senso dare un aiuto aiutarsi no? la solidarietà bene bravi ragazzi avete sentito che vengono tutte da sono qui dei gardesani siete no? va bene forza palermo ciao ragazzi ciao eccola ce ne siamo riusciti? sì è complicato mettere sta vela qui la corda no la cima o la corda? lo stroppo lo stroppo né la cima ma io dico senti come ti chiami? Giovanni quanti anni hai? dieci senti Giovanni allora noi oggi stiamo parlando in queste interviste dell'amicizia facendo vela si fanno anche tanti amici è vero o no? tu si è fatto degli amici? sì perché? dopo un anno di vela è bello avere tutti questi amici fatti durante le regate quanti ne hai fatti? dipende perché? perché alcuni sono antipatici e alcuni simpatici e qual è il criterio per cui uno è simpatico o antipatico per te? boh cioè perché a volte tipo uno mi dà fastidio e invece l'altro no ed è sempre così tipo senti ma e quindi c'è più gusto a battere in acqua quelli antipatici? sì e invece i simpatici magari li fai pure passare? no quello no però va bene ciao ciao Francesco Alessandro Dante Marco Dante che nome ho eh bello nome allora Francesco, Alessandro, Dante e Marco stiamo parlando delle amicizie che si fanno facendo lo sport della vela in un anno di vela questa è l'ultima regata un po' dell'anno quanti amici vi siete fatti? tanti e perché? ma boh così anche in acqua con poco vento si parla con gli altri boh sì parecchi amici ho conosciuto anche quest'anno quali sono le cose su cui si diventa amici? ci si confronta? beh anche quando stiamo a terra magari non c'è vento come oggi e dobbiamo giocare a qualcosa non sappiamo che fare quindi parliamo tra di noi o ci inventiamo un gioco tipo ieri noi abbiamo giocato tutti a carte prima di uscire quindi si gioca si si gioca poi anche per aiutarci a girare delle barche a coprirle o armare le vele si parla quindi anche amicizia cioè amicizia per diciamo così aiuto nelle fasi e invece anche di senti però io voglio chiedere una cosa ma si fanno più amici maschi o amici femmine? maschi sì eh? che le femmine stanno per conto loro le maschi un po' così eh? sì poi secondo me l'amicizia si conosce anche alle regate facendo molte regate si conoscono altre amicizie amicizie oppure di altre nazioni ecco questo è importante qui ci sono tanti stranieri sì no? si fanno amicizie anche di altri paesi quindi altre culture qualcuno che avete conosciuto qua in questi giorni arriva? di altri paesi? per ora ancora ancora no però oggi vedrai eh? qualcuno avete conosciuto? sì io ho i due nazolandesi ah ti stai portando avanti in caso di Coppa America dici tu? eh sì no anche perché sono di origine nazolandese quindi è vero Dante il famoso Dante eh io ho conosciuto tre svizzari non ho niente della svizzera molto simpatici e poi vabbè niente ho mantenuto le vecchie diciamo no io diciamo in questi giorni non ho fatto altre amicizie però ho rivisto amici vecchi e abbiamo riparlato sì sì ciao raga ciao 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 buongiorno come vi chiamate? io Matilde Sofia Matilde Sofia e voi? Giulia Alfredo Matilde Sofia Giulia Alfredo e anche Rachele Rachele la domanda del giorno è sull'amicizia no? cioè la vela è uno sport che avvicina le persone quindi avete fatto degli amici in un anno di vela quanti amici avete fatto? perché vi piace essere amici? su cosa vi siete incontrati e diventati amici? di solito magari quando non c'è vento in un regato, in una prova non si fa perché manca il vento magari andiamo un po' a fare amicizia così poi noi facciamo sempre amicizia, ci piace un tacco fare amicizia abbiamo anche inventato un verbo, amiciziare bello che andiamo ad amiciziare esatto cioè pronti a virare e pronti ad amiciziare sì infatti andiamo sempre in giro ma l'avete creato voi chi? voi della Lega di Porto San Giorno? sì bella questa cosa, bravi ci piace, tu ti sei spostata perché volevi pensare meglio perché io faccio parte della squadra laser tu sei una laserista vabbè ma anche i laseristi hanno amici certo ma hai fatto Optimist tu e quanti amici ti sono rimasti dell'Optimist? tutti è quello allora andiamo ad amiciziare quanto hai amiciziato in questo anno di vela? abbastanza qualcuno che ti è rimasto impresso? un circolo della nostra zona abbiamo fatto amicizia senti, si fa amicizia più con le veliste o i velisti? ma tutti e due anche con gli stranieri anche con gli stranieri brava tu? io anche quando Mari sono stato in gommone a parlare con cioè io faccio Opti cioè oggi andiamo però conosco anche molti circoli che non siano loro quindi bisogna uscire un po' dai confini venite venite qua si è aggiunto qualcuno nome? è Valerio e tu? è Riccardo Valerio, Riccardo e tu? Pietro Pietro con sti occhi proprio te mazza dici di che colore c'hai gli occhi vabbè allora l'amicizia quanti amici abbiamo fatto in un anno di vela? io non l'avrò fatto in una trentina una trentina? anche in regata mantieni proprio la contabilità? anche in regata ogni regata ogni regata ha due o tre amici in più così? eh sì bellissimo e quanto è qua? tu? più o meno uguale pure te? ma non gli stessi? per cui ci circoli no e perché? secondo te qual è la cosa che fa scattare? con quello diventa amico con quello no? quando ci dà una mano oppure ci fa conoscere con altri circoli oppure per esempio quando dobbiamo spostare le barche uno deve passare ma ce la sposta quindi diciamo la simpatia la disponibilità no? vieni 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 con questi occhietti qua quanti amici hai fatto quest'anno? eh dieci una diecina diciamo siamo più tranquilli però sono amici che restano ti immagini che qualcuno proprio hai legato con qualcuno in particolare? eh sì tipo? eh un po' con qualcuno dei circoli della nostra zona ah quelli un po' più della zona? eh da quant'è che vai in barca tu? da due anni bellissimo tre due tre dai vabbè dai andiamo ad amiciziare eh ciao andiamo ad amiciziare ciao come ti chiami? Alessio Alessio quanti amici ti sei fatto in un anno di vela? ecco perché si diventa amici facendo vela? un bel po' soprattutto della seconda zona perché tra le legate si fanno conoscenze poi diventano amici e si è? si è e cosa ci si scambia? cioè cos'è? quali sono gli elementi che creano la scintilla no? che fanno diventare amici che ci si avvicina? prima si parla poi si chiacchiera sempre di più e alla fine si diventa amici e dopo però in acqua in regata con gli amici cioè gli fai passare o? no no cioè amici a terra ma nemici in acqua ciao mi hanno detto che quello si chiama come si chiama quel pezzo lì? questo? si stroppino stroppino ecco vedi mi avevano detto a me stroppo stroppino io l'avevo chiamata corda mi hanno detto no stroppino senti allora come ti chiami? Ruben da dove vieni Ruben? da Dongo Marveglia bello Marveglia che bello senti stiamo chiedendo una cosa no? facendo vela si fanno tante amicizie tu hai fatto amicizie in un anno di vela? si perché secondo te è facile fare amicizie andando in barca? perché stiamo in tanti già banalmente il fatto statistico già conta però poi come li scegli? come diventi amico di qualcuno? stando con loro eh? stando con loro più a terra o più in acqua? più a terra più amici o più amiche? uguali uguale? ciao Ruben ciao che stai mettendo? stavo mettendo gli stroppetti è molto importante sta manovra degli stroppetti? eh sì si è? uno stroppetto messo bene o messo male cambia la regata? eh sì allora come ti chiami e da dove vieni? Gianluca Filia dalla Sardegna senti stiamo parlando di amicizie e vela cioè la vela che fa fare amicizie quanti amici ti sei fatto in un anno di vela? eh tanti sì eh? sì e qual è il criterio dell'amicizia? come senti che sei diventato amico di qualcuno? di cosa parlate? cosa fate? eh oltre che di vera un po' di tutto il tuo amico diciamo più del cuore dopo un anno di vela? è uno che ormai però è passato il laser quindi tu non vedi l'ora di passare il laser pure te per raggiungerlo where do you come from? from Poland Poland but you are Ita on the jacket because we got this t-shirt from the judges ok ok allora sono le pettorine ufficiali io ho detto Ita ma loro sono dalla Polonia what's your name? Janka Jola Janka e Jola we are talking about friendship doing sailing sport you meet many friends I met so many people and I met also Jola in my town in Krakau I met so many friends it's easy no? it's easier making sailing to make friendship with other people it's much easier it's much easier but your favorite friends are sailor or not? yes my sailors yes yes I got my favorite sailors uh-huh sailors man or woman? also woman and man bot, bot, ok it's your first time in Garda? yes it's first time my second time my second time it's expert she's expert today wind we are hoping for the good conditions because then the sailing is much better but in these conditions we are also going to sail well bravo congratulations also for this pink face that you have good morning guys how are you? italy 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 to try to ask simple information like that that is that is you become a man so he is a force that is that is that is that is that is that is we are we have started to scream two words and then I am from Genoa he is from Lago of Como e alle trasferte tipo queste che sono molto importanti, viene e quindi ci divertiamo insieme. Cioè Genova, allora tu lo sai che sul lago di Como è nato il primo circolo velico della storia di tutta Italia sul lago di Como e a Genova c'è il circolo più antico, diciamo c'è stata la vela che ha preso piede, quindi siete proprio il cuore della storia della vela. Forse per questo siete diventati amici. Eh sì. Vabbè ci penseremo. Amicizie, quante ne abbiamo fatte quest'anno? Molte, molte, anche loro, anch'io sono amico, sono del lago di Como. Sono bravi loro diciamo, i genovesi. Lui un po' meno. Amici maschi o amiche femmine? Più amici maschi. Più maschi, sì. E femmine un po'. Entrambi. Entrambi, sì. Tu da dove vieni, come ti chiami? Lago di Como, Francesco. Con loro, da Dongo vengo. Senti, un anno di vela, c'è qualcuno che ha fatto la contabilità, io 5-6 amici, io 30, io 10, tu quanti amici? Ah non li conto però. Cioè, non è una, non tutto può essere contato, cioè, non tutto quello che vale può essere contato. Bravissimo, bravo Francesco. Come ti chiami? Marco. E vieni da? Vengo da Artignano Livorno. Ah, bravo. E tu? Mi chiamo Elena e vengo da Civitanova. Allora, stiamo chiedendo quanti amici avete fatto in un anno di vela. Eh, un sacco. Vero? La maggior parte li ho conosciuti grazie agli istruttori che conoscevano, poi alcuni li ho conosciuti per alcune sfide. Sfide? Tipo? Tipo ho conosciuto un mio amico che adesso sta all'armare, che si chiama Alessio Piccinetti. Eh, l'abbiamo sentito prima. Eh, l'ho conosciuto grazie a una regata. Vedi? Vedi? L'ho conosciuto. Le regate fanno diventare amici, però lui ha detto che in regata gli amici diventano nemici, eh? Non fa passare nessuno. Eh, lo so, però a terra poi. A terra, finalmente si torna a terra dopo la regata. Invece io ho tanti più amici, eh, che vengono alcuni dalla Sicilia, alcuni dappertutto, però in regata sono le persone che odio di più. Addirittura? Sì. Dice, mannaggia, è proprio quest'amico mio qua che mi toglie il vento, eh? Sì. Perché tu dici, quelli che non sono amici, vabbè, sono in regata, ok, ma proprio l'amico o l'amica che ti si mette davanti. Eh, sì. E che fai allora? Eh, in che senso? Che fai? Che fai, cioè combatti? L'amico lo vuoi battere a tutti i costi, no? Sì, a volte... Non è che lo fai passare. No, no, anzi, voglio superarlo. Senti, ma secondo te, no? Tu hai più amici nel mondo della vela, nell'ambiente della vela o a scuola, fuori dalla vela? A vela. Sì, eh? Sì. Perché in regata, quando vedo una persona, subito gli chiedo come si chiama, così diventa mio amico. Da dove vieni tu? Civitanova. Ciao. Guarda che bella maglietta! Grazie. Bellissima, eh? Grazie. Che cosa, cosa rappresenta? Una tigre. Una pantera nera, eh? Una pantera nera, una tigre. Senti, come ti chiami e da dove vieni? Alex, io vengo... Io vengo da Sardegna, sono... E vengo dal club di Cannigione. Oh, che meraviglia, che posti splendidi. Senti, stiamo parlando di amicizie, no? Facendo vela si fanno tanti amici. In un anno di vela quanti amici ti sei fatto? Mi sono fatto tanti amici. E... Mi sono fatto molti amici. Anche perché andando in giro con queste magliette, secondo me, vengono tutti e ti vogliono conoscere. E ti chiedono, dove l'hai comprata? No, stamattina, quando ero giù alla colazione, mi hanno detto che è bella questa maglietta, anche, e che ce l'avevano anche loro. Ah, ecco, ok. Ma è diversa. Va bene, buona giornata. Ciao. Ciao. Cioè, per favore, inquadrami, guarda. La scarpa, il pantalone rosa, la maglia color così, questa... La maglietta rosa. La maglietta rosa e il... Allora, ciao, come stai prima di tutto? Bene. Eh, senti, siamo... Tu sei un'abitue delle nostre interviste, ormai ti conoscono. Siamo parlando, intanto che passano a barca, stiamo parlando dell'amicizia... Delle amicizie che si fanno nello sport della vela. In un anno di vela, quanti amici e amiche ti sei fatto? In un anno di vela ne sono fatta tanti amici. Sia per tutta Italia, ma io anche parlo molto con gli inglesi. Ah, ok. Tipo, gli chiedono da dove vengono. Una volta nella Kinder, a Monfalcone, quindi se non sbaglio quella precedente, ho parlato con un inglese che veniva da Hollywood, quindi gli ho chiesto com'è, ti piace Hollywood? E le fa sì, molto bello. E quindi parlo anche molto con gli inglesi, io ho tanti amici in giro per l'Italia. Ogni volta che posso, ciao, ciao! Scusa, scusa, ma una cosa, ma Hollywood sta in Inghilterra o in California? Perché tu hai parlato in inglese, ma... Aspetta. Quello di Hollywood è americano, americano. No, aspetta. Sì, sì, può essere, c'è pure un Hollywood in Inghilterra, valla a sapere. Aspetta, Hollywood, io no. Hollywood, aspetta. Hollywood, Los Angeles. Esatto. California. 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 Vabbè, comunque parla in inglese. Sì, esatto. Tu quello volevi dire. Eh, sì. Ma la maggior parte tutti parlano in inglese, ma è tipo la lingua universale. Brava, così mi sei piaciuta. Quali sono le cose che fanno diventare amici, secondo te? Cioè, perché tu ti avvicini a una persona e diventi amica e a un'altra no? Ma secondo me parte tutto dal saluto. Cioè, tu appena saluti una persona già pensi, guarda, guarda, l'agia che mi ha salutato è una persona per bene. Poi, secondo me, poi tu appena ti avvicini parli un po' con lui, gli chiedi cosa fa, da quale circolo viene. Poi tu cominci a capire che persona è. Avete capito che lei è quella che comanda tutta la flotta qui, eh? Sì. Bravo. Quanti anni ancora devi fare di Optimist? E io, questo è il mio ultimo anno cadetto. Quindi l'anno prossimo, gennaio, juniores. Poi, buber. Altre due o tre anni. Sì. Cioè, dipende tutto se divento più alta. In futuro? In futuro vorrei fare, vorrei provare Wasp e Laser. Brava. Ciao. 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 Ciao.